Franzone, la storia infinita dei liberi consorsi in Sicilia e l'ingresso di Gela nell'area metropolitana di Catania vive un'altra tappa, un altro capitolo. Che cosa è accaduto? Per noi la storia è finita, in quanto tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. E' il Parlamento regionale che adesso deve prendere atto e continua a perdere tempo su questa vicenda. Per questo motivo siamo andati a parlare col sottosegretario Bressa a Roma, insieme al sindaco di Gela Domenico Messinese, l'assessore Salenitro, il sindaco di Piazza Almerina Mirodi, ma abbiamo portato un documento sottoscritto anche dal sindaco di Niscemi Francesco Larrosa e dal sindaco di Lico di Obea Giovanni Verga. Siamo partiti appunto con i comitati, su richiesta dei comitati, e l'onorevole Caruso ci ha organizzato questo incontro. Bressa ha sentito le argomentazioni che sono valide su questo argomento, perché si tratta di rappresentanza di democrazia e di una perdita di tempo ingiustificata da parte di questa regione, ha detto che invierà una lettera al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione, indicando loro di fare in fretta con il completamento delle leggi 15, perché appunto non è completo quell'iter che prevede tra l'altro il Comune di Gela Piazza Mirani Scena a transitare all'interno della città metropolitana. Il coinvolgimento adesso del Governo, specifichiamo, sottosegretario a quale di Castero, e quindi il coinvolgimento del Governo centrale, secondo voi, potrebbe determinare un'inversione di rotta? Questo è il sottosegretario alle autonomie locali, è stato colui il quale per conto del Governo nazionale ha impugnato la legge 15 per ben due volte e il Parlamento regionale per ben due volte ha dovuto modificare la legge 15. Quindi stiamo parlando del controllo che una volta svolgeva il Commissario dello Stato e che adesso svolge il Governo nazionale sulle leggi siciliane. Quindi diciamo che attualmente è un vero e proprio richiamo a concludere quella che è stata un'iter di legge prodotto da questo Parlamento. Il Parlamento deve applicare questa legge. Quello che deve fare con le variazioni territoriali si chiama legge provvedimento. Deve soltanto provvedere al passaggio, non può discutere o decidere, ma deve provvedere al passaggio di queste comunità in un altro intermedio.